ciao fragoline allora seconda parte del video dato che io non so se questi due grattivinci sono vincenti perché non ho grattato sotto la barretta dove ovviamente l'applicazione che ti dice se hai vinto allora ho detto quasi quasi non lo faccio così almeno so insieme a voi se ho vinto o se ho perso in questi due grattivinci io spero di recuperare qualcosa perché ho praticamente speso ho speso i 18 euro per tre grattivinci se ovviamente non avete visto l'altro grattivinci grande dei 10 euro andate a vedere sul mio canale c'è il video allora ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video è un commentino qua sotto tutti i commenti saranno revisionati su cioè praticamente io li revisione e poi li metterò sotto nel video i commenti cattivi verranno eliminati io lo dico sempre in questo video perché c'è gente che scrive commenti cattivi ma non hanno capito che a me non me ne frega un cavolo perché tanto alla fine i video c'è questo video piace molto alle persone ho tante visualizzazioni per cui io andrò avanti 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 a fare questi video grazie a chi li guarda detto questo vediamo se abbiamo vinto e vediamo se questi due portano proprio fortuna vi lascio al video allora iniziamo dal magico natale e per ultimo numerissimi sempre con i miei 50 centesimi facciamo lo zoom e iniziamo allora vediamo qui abbiamo un angelo una candina pattino facciamo così una slitta una luna tappa il cappello un guanto un regalo il panettone babbo natale un altro regalino siamo a già due poi abbiamo il fuoco e per finire un regalino ok vediamo il bonus che ovviamente è le carte però con la cifra di 500 direi che non abbiamo vinto come sempre primo biglietto un po' perdente vediamo l'altro questi sono i miei numeri dobbiamo vedere se riusciamo a trovare questi quindi allora iniziamo da questo che è 57 eccolo qui l'ho già visto vediamo se c'è un altro di 57 57 non c'è guardate anche voi non vi metto tanto zoom perché sennò non si vede niente poi 85 85 85 io non lo vedo ok poi 82 82 non c'è poi 37 37 37 c'è qua vediamo se c'è un altro direi di no 59 59 59 c'è questo vediamo se c'è un altro sì qua 59 e direi stop poi 21 21 21 23 c'è 21 non c'è niente spero che esce il 77 perché almeno so se vinco qualcosina 33 non lo vedo 33 33 non lo vedo poi 58 58 qua e basta perché ho visto solo uno per cui ok poi qua c'è il 78 e ma che sfiga però dai ho visto male qua c'è un 57 non mi sono accorta vabbè poi dopo controllo bene poi andiamo avanti un 61 è qua sotto poi c'è un altro qua e basta ok poi 42 42 c'è il 46 direi che non c'è il 40 eccolo qui altro 40 non c'è il 23 qua sotto 23 c'è solo quello direi di sì poi partiamo i bonus che c'è il bonus 32 che è qua sotto vediamo se c'è un altro no non c'è no andiamo avanti il 48 è qua e basta perché lì c'è il 46 direi di no c'è solo quello l'ultimo vediamo se siamo fortunati il 63 63 non lo vedo no non vedo il 63 perché c'è il 62 che sfiga però perché volevo trovare il 77 allora vediamo 82 qua non c'è quello blu 85 non li vedo 57 c'è il 56 37 non c'è il 59 è lì il 21 33 58 qua il 56 78 che sfiga perché abbiamo il 77 e il 79 poi il 61 niente il 42 non c'è il 40 neanche 23 no 32 non c'è 48 no e l'ultimo che è il 63 non c'è perché qua abbiamo il 62 e anche questo e anche questo biglietto è perdente che sfiga allora controlliamo lo stesso anche se sono perdenti e dice che il biglietto non è vincente proviamo con l'altro e dice che il biglietto non è vincente per cui vuol dire che non abbiamo vinto praticamente neanche un euro mamma mia è la prima volta che spendo tanto e non ho vinto neanche un euro ho controllato anche diciamo cioè se aveva di culo potevo vincere i 2500 però sarà un po' difficile perché sono numeri alti c'era un 5 e un 10 ma erano gli unici due che erano bassi tutti gli altri sono alti per cui devi proprio avere il culo e niente io ovviamente non ce l'ho direi che ci sono anche un po' rimasta male perché ovviamente non sempre si vince però diciamo che poteva andarmi meglio se vincevo almeno due euro per recuperare qualche gratta e vinci e invece no per cui vabbè direi che non iniziamo bene questo questo 2023 vabbè sarà per il prossimo video la prossima volta sperando che con gli altri grattevinci che poi prenderò cioè porteranno fortuna credo di prendere quelli i soliti i soliti che non spendi più di 5 euro massimo 4 massimo se poi volete un video con 5 euro di grattevinci 10 euro di grattevinci ovviamente ve lo faccio calcolate che avevo pensato di fare un video dove compro tanti grattevinci e li gratto tutti insieme così almeno vi volevo fare questo genere di video e vedere se porta diciamo fortuna allora il sole sta andando via non si vedrà più niente qua dentro per cui io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando vi aspetto sul mio canale perché sul mio canale ci sono ovviamente tanti video un po' misti sia per femmine che per maschi per cui vi aspetto detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao